Due nuovi bandi per finanziare i progetti di sicurezza urbana dei comuni toscani sono stati illustrati dall'assessore regionale alla sicurezza Vittorio Buglia a Firenze. Il primo interessa la rigenerazione urbana per riqualificare piazze e quartieri più fragili, aumentare così la sicurezza in 22 comuni per 715.000 euro e poi la polizia di prossimità per cui sono stati stanziati 635.000 euro. Il secondo riguarda 120 progetti di videosorveglianza finanziati con oltre 2 milioni e mezzo di euro che si sommano ai 3 milioni e mezzo circa già impegnati. La spinta che noi possiamo dare anche agli enti locali è una spinta propositiva per andare a rieoccupare gli spazi pubblici dalle forze positive della società e non lasciarli quindi a un possibile degrado. Dall'inizio della legislatura la regione toscana ha investito quasi 6 milioni di euro in videosorveglianza dei quali hanno beneficiato quasi tutti i comuni toscani.